EXPEDITIONS VIKING Ehi la giur ma io sono Valtetez e ben ritrovati qui su EXPEDITIONS VIKING Ehm nulla allora mi sono interfacciato un attimo con i ehm un gruppo discord e mi han detto che si effettivamente se continuiamo da questo momento in poi ci blocchiamo tutta la roba di Northumbria per cui forse conviene andare a fare la roba di Northumbria prima di bruciarci tutto e dice tra l'altro di andare anche a Orkneyar as soon as possible ma io andrei un attimo prima a a a cos'è a questa di tornare a schierno e pernefia ehm ma abbiamo la nave qua non possiamo partire direttamente con la nave scusate immagino immagino il Sigmica no allora Orkneyar è la noi abbiamo possibilità di accedere all'Evapor Week e a queste quanti giorni sono? due giorni e quindici ore si può fare si può ben fare abbiamo quattro che sono feriti però ah però siamo dimollati i ricotti e dovremmo avere la capa di roscva che ci cura tutti no? abbiamo guardato dei valuable abbiamo guardato delle erbe dove convertirne un sacco tra l'altro di erbe vuoi entrare a schierna? si non tanto ci fa entrare nella mappa della Danimarca o solo schierna direttamente? mi sa solo schierna direttamente non so se possiamo ancora esplorare le zone che abbiamo tralasciato in passato sono solo? e ci sta allora c'è tanta gente con cui si può parlare qua prima di tutto no prima di dimenticarci vorrei andare a vedere se qua il capo di roscva ci ci sono un sacco di erbe che bisogna raccogliere siiii guarda raccogli raccogli che che le erbe servono tantissimo sono la cosa più importante del mondo praticamente in sto gioco anche se adesso iniziamo a crepare un po' meno ma ah fulda ecco come si chiama se vado da fulda mi cura tutti però mi sa che adesso sono ancora cioè hanno viaggiato due giorni senza curarsi temo vediamo un po' cosa che ci dice si ok stiamo ancora malati questa qua è la tizia che vendeva roba che abbiamo salvato no? diamo un attimo brana carsdotter ha delle robe interessanti no non vende erbe qui niente ciao questi sono questi che si allenano per sempre nella notte chi c'è qua dei nostri agunnar il pacifico roscola roscola la nera puoi curare i tizi siiii ottimo abbiamo risparmiato un bel po' di melecine tornerò ogni tanto infatti sono tutti in forma adesso ora andiamo a vedere la storia di nefia vedere cosa ci dice intanto non sono tutti in giro qua ma abbiamo migliorato la fattoria qua no? non avevamo migliorato la fattoria? ah si c'è questa roba qua forse non me lo ricordo a quel campo infinito dove c'è le mucche qua le mura le hanno rinforzate un po' ma non sono fortissime anche perchè poi non abbiamo più investito ma c'è della gente qua con cui possiamo parlare ci sono delle altre missioni magari di robe che ci fanno fare e altra cosa qua possiamo poi no mi sa che non possiamo mai più spostarci da qua cosa che dice? qua ci sono degli Ketil no no infatti l'area della Danimarca ci è esclusa per sempre ormai allora vediamo un attimo qua di occuparci un attimo della salute della sorella di Nefia è sempre a letto Nefia si inginocchia accanto al letto di sua sorella tenendole la mano sta piangendo e Ifura sembra più pallida di sé di che mai avevo ragione il mio sogno era corretto cosa è successo? è la stessa maledizione cioè è la stessa malattia maledetta devo fare qualcosa dobbiamo liberarci una volta per tutte non piangere Nefia fintanto che mia mamma ha ancora te accetto la mia morte non dirlo non morirai ok chiederò a Uld grazie dobbiamo fare qualcosa Ifura ha combattuto troppo duramente e troppo lungo non voglio perderla andiamo a parlare con Uld da saperlo ci andavamo appunto adesso a curare tutti vabbè dai con sti caricamenti però dai 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 no? ok allora Shura Hulda crow talker crow talker crow talker poi possiamo parlare anche con tutta la varia gente qua stiamo facendo qualcosa qua intanto a due giorni è finito no ci sono delle erbe qua vieni prende le erbe mangia le erbe 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 ok viene qua da Hulda 271 si dai adesso siamo abbastanza scialli come medicina dobbiamo essere tranquilli Helioxel come non vedi la mia faccia troppo spesso cioè ci siamo messi due secondi fa la famiglia Nefi ha bisogno del tuo aiuto penso che ci fossero liberati per sempre ho trovato ho provato tutto quello che conosco e tutto quello che conosco da chiunque altro io abbia un'opinione che considero cioè che qualsiasi altra persona considero mi spiace abbiamo terminato tutte le opzioni ehm la seconda magari cioè viaggiamo lontano e spesso magari la cura che cerchiamo esiste dall'altra parte del mare mmm no no non lo so può darsi ora che ne fai menzione tutto questo è iniziato quando Olmun è ritornato con tuo padre da una da una spedizione a nord è possibile che la gente al nord sappia come trattare questa malattia ah qua parla di Pictavia ma grazie ma secondo me no dobbiamo andare da da cosa è bello tornare a casa ok dici di andare a parco dell'arco ne disse questa old sempre peggio le altre domande sono sempre le solito domande ciocche cioè le altre domande che faceva quando eravamo qua vediamo un attimo è qua edis dentro casa sarà si eccola ciao i ragazzi stanno bene non sembra neanche che abbiano bisogno del loro puro zio riuscissimo ad avere successo nella nostra missione quest'anno i ragazzi stanno bene il prozio le tiene in riga va bene dai si apposcia mi sa che non è che abbiamo granché da chiacchierare qua con la gente dobbiamo andare su a o probabilmente è la che c'è la cura per l'affare di la storia di nefia e magari per quello che mi hanno detto di andare su a nord il prima possibile qui qua non abbiamo altro ci sono questi tizi qua che non so cosa vogliano c'è altro in giro a morcant qua sta insegnando delle robe sto curioso di vedere a morcant cosa faccia la in giro ah e mia madre ha anche ok ah sono i due tizi che abbiamo liberato ok ehi nostro salvatore siamo contenti di vederti ancora amico siamo molto contenti che tu ci abbia invitato dove state lavorando? vogliamo fare una pietra runica in tuo onore parlo delle tue avventure in britannia che immortalino le tue azioni la memoria eterna della pietra come ve la passate? stiamo bene la parte della nostra cattività ci ha avvicinato in un l'altro ok e johnstein? vabbè niente mi dice le stesse cose e sono curioso di vedere morcant cosa dice poi dopo la madre vado a fare un saluto alla mamma prima di andarmene via mi sa che non c'è tanto altro da vedere là in giro lui ci vede ora a vendere delle cose un saluto e quando gli saluto alcune sede si scendono e i bambini venivano e li diventarono bene ah è la parabola del buon seminatore cosa stai raccontando con questi bambini? erano abbastanza affascinati quindi gli sto spiegando delle cose della mia fede beh se li tieni occupati non causeranno problemi spero che non ti faccia casino il fatto che lui sia di un'altra religione ho molto da condividere va bene ciao andiamo un attimo qua e poi ce ne ripartiamo super speedy a vedere al nord che succede che ho un po' paura per la sorella Dini effettivamente sono coppie davanti alla tua long house non capisci chi siano finito che la donna incrocia lo sguardo con te e si avvicina ecco ti ah sono quelli che abbiamo incontrato nelle peludi che abbiamo salvato nelle peludi hai salvato il nostro figlio questo è l'uomo di cui ti abbiamo parlato che condivide le medicine ah che ha condiviso con noi la medicina nelle peludi ah ok hai qualcosa da dirgli? grazie Fegne ho apprezzo che siete venuti tutto il tragitto fin qua la gratitudine non è molta in questi periodi dovevamo fare il viaggio così che tu potessi vedere la faccia del ciò che desideri il nostro figlio potessi vedere la faccia del suo salvatore abbiamo un altro figlio che sta un altro bambino che sta arrivando un ragazzo con il tuo permesso vorremmo chiamarlo mazzetesse lo considererei un grande onore abbiamo portato questo regalo dal nostro intero villaggio per favore accentalo con la nostra eterna gratitudine grazie 756 valuable ok ok se ne vanno via da schierna ottimo e dai sono felice che sono venuti a salutarci così ti allegri col figlio che sta bene la sorella di Nefi è purtroppo non così tanto ma... ehi la mammina è bello che sei tornato a casa gli dei devono essere... devono avere benedetto Drekchi ok puoi parlare con tuo fratello quando hai tempo? sta diventando sempre più distante da quando essi andato in che modo? è silenzioso certe volte mi lascia per settimane e non so dove vada ma è sempre molto evasivo quando gli chiedo cercherò di capire cosa... ok spingerlo troppo come siete andati? oop cosa che dice? vabbè delle cose eeeh come stiamo? abbiamo fatto un grande progresso sono contenti e il commercio sta riprendendo sulla strada del re siamo a metà da dove vorremmo essere ok abbiamo 10.000 valuable si abbiamo 10.000 valuable da lasciare allora lasciamo le 10.000 valuable abbiamo portato un po' di tesoro per il clan eeeh ok aumenterà parecchio tutto di 2? da fuck 10.000 valuable sono tantissimi vabbè parliamo con Rurik che succede Rurik? si trattiene nel retro non è venuto a a salutarti quando sei arrivato che non è da lui Haluxael fratello ah non alza neanche lo sguardo dal lavoro o dall'intaglio che sta facendo è molto distante cosa? neanche un abbraccio per il tuo fratello? ti abbraccio ti sembra di vedere che hai irritato come vanno le tue spedizioni? non sei felice di vedermi? certo che sono felice di vederti siamo tutti preoccupati per te quando non sei a casa andrei con la prima sei sicuro che tutto vada bene? ti stai comportando in un modo un po' strano per favore già nostra madre non la smette di lagnarsi con me non ho bisogno di questo che tu ti comporti anche così è tempo che me ne vado via dalla città un po' no? sono stato troppo tempo della mia vita chiuso qua forse mi hai semplicemente dato un buon esempio magari ho deciso di cambiare forse sembra che qualcuno ti stia influenzando dai con diplomacy non non farlo sto prendendo finalmente carico della mia stessa vita cercando di recuperare un po' della dignità che ho perso negli anni non cercare di attribuire questo a alcune influenze esterne però c'è qualcuno che lo sta effettivamente andrei con la 1 sono contento che stia facendo qualcosa è meglio guidare che seguire sapevo che avresti capito le cose stanno migliorando qui sto facendo le mie parte sarà meglio per tutti se e imparo a essere l'uomo che tutti si aspettano che io sia se nostra madre chiede ancora dille che starò bene è giusto voglia di esplorare chi non sarebbe ispirato da un fratello come te? boh qualcosa non mi piace eh di tutto questo discorso no 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 comunque no dov'è la nave? riprendiamo la nave e partiamo subito al nord perchè Hulda dice di andare nord ma noi siamo andati solo solo dai pitti e invece dobbiamo andare più a nord ma ha detto questo mi sa che lo vedremo nel prossimo episodio lo scopriremo nel prossimo episodio e vi invito a lasciare un mi piace e iscrivetevi se non l'ho già fatto e lasciare un commento qua sotto ciao a tutti buona giornata ciao a tutti